Dovrebbe nascere questo governo PD 5 Stelle? Secondo lei quando potrà durare? Io ho imparato che un patto fra galantuomini dura, tra malfattori dura molto poco perché ognuno pensa di imbrogliare l'altro. Ora, chiarisco subito che il PD a me piace poco, per molti aspetti è inutile perdere tempo qua. I 5 Stelle hanno ragione nelle loro accuse però sono molto ingenui e temo che questo governo se si farà sarà la fine dei 5 Stelle perché i dirigenti del PD sono molto più astuti, molto più esperti e fingendo di accontentarli sicuramente faranno fare al movimento una brutta figura. È possibile che abbiano fatto questo accordo o tendano di farlo solo per eliminare Salvini? Può anche darsi perché se non si parla chiaramente si può solo intuire quale sia il motivo di un gesto o quello di un altro. Salvini è stato scomodo anche se a volte non ha tutti i torti però l'idea della Lega, soprattutto di quei governatori che vogliono un'autonomia speciale è sempre quella di fare tante Italie. Invece di unire le forze sane della nazione e contrastare le forze malefiche. Lei che ne pensa invece? Capace che stiamo bene, appena mi andiamo a segno. Politici che si cambiano, si cambiano. Prima litigono, litigono e dopo si mettono insieme. Che governo sono? Che cosa? Lo fanno noi italiani che fanno il governo, sono loro che fanno il governo. Lei dice che non c'è credibilità quando si mettono assieme persone che la pensano diversamente? No, perché sono loro che comandano, non è che sono il popolo italiano che comandano, sono proprio... Lei cosa ne pensa di questo governo PD, 5 Stelle che dovrebbe nascere? Non ne ho porto neanche il telegiornale per non sentire la politica, stop, basta. Non mi interessa completamente, mi sento io quasi un estraneo dell'Italia. Quindi insomma le dà quasi fastidio sentire tutte queste cose? Non ascolto più il telegiornale, ascolto solo il TVA per sentire qualcosa al tuo paese e basta. Lei invece che dici di queste trattative? Che ho testato il programma, o che ho restato completamente, perché sono un pugno di boffone, tutti a governo. Non c'è bisogno di ciò di qui, glielo dico io personalmente. Perché il gira che ti gira è sempre la stessa famiglia. Fanno quello che vogliono, comandano loro e fanno il presidente a chi vogliono loro. Poi se noi qui siamo poveri cappi, poveri pensionati, anzi siamo pensionati che tiriamo la vita per... Vediamo che ne pensano loro. Facciamo questo governo PD, 5 Stelle? Ma come facciamo? Lei è d'accordo? Lei è d'accordo? Perché è d'accordo? Perché è meglio che stiamo in una buona moglie. Sarà un migliore questo governo di quello precedente? Speriamo, che non è così. Lei? Come sarà questo governo? Mi viene a mandare a sapere, perché queste sono fallone. Agenda fallone per me sono. È un'opportunità per il paese, piuttosto che andare alla deriva come stavamo andando, questo ci consente di poter rimettere così stesso e ripartire. Se ci sono le condizioni è la volontà di coloro che formeranno il governo. Ma sarà solo un'alleanza per fermare Salvini oppure vogliono governare veramente? Si augurano che sia un'alleanza politica. Si vedrà. E i fatti daranno ragione torto a chi si propone di fare queste cose. Quanto durerà secondo lei questo governo? Dipenderà un po' dai provvedimenti che prenderanno. L'opinione pubblica si vedrà come reagirà. È un'ingoglia da secondo me. Spero però che vada bene, su questo non c'è dubbio. È un'alleanza per governare o per fermare solo Salvini secondo lei? La Salvini non conta. È per governare. E basta. Non ce ne sono altri buoni motivi politici se non per governare. Le forze che si sono sempre insultate secondo lei possono durare quanto? Storie insegna. DC con Andreotti e PC si sono anche uniti nel passato. Più contrapposti di questi. Andiamo a questo ragazzo. Ha eseguito la vicenda di questa trattativa PD 5 Stelle che potrebbe portare ad un nuovo governo? Sì, l'ho seguita. Sono a favore, come la Repubblica ha pubblicato, comunque sia che anche della Boldrini, che questa nuova alleanza è molto fantasma, cioè sarebbe quasi impossibile. Adesso stiamo a vedere se riusciamo a fare un governo, lo chiamano anche loro, un governo fantasma. Vediamo se riusciamo a fare qualche cosa. Perché comunque sia gli ideali del Movimento 5 Stelle e del PD sono discostanti tra di loro. Vediamo se con questa nuova alleanza e con degli accordi riusciamo a sistemare la situazione, anche se sembra un po' ancora rischiosa. Secondo te potrebbe durare poco allora, visto che hanno visioni diverse? Secondo me sì, sarebbe un altro governo sempre molto forfettario, che durerebbe poco. Poi ovviamente in base agli accordi politici che faranno la cosa potrebbe durare assai, come potrebbe succedere come successora con la Lega, che è finito comunque sia.